Sono Tommaso Biagetti, rappresentante di Dipartimento di Economia. Il Dipartimento nel momento in cui siamo subentrati era in una condizione sufficientemente buona, c'è stato da subito una grande collaborazione con i professori. Noi come associazione ci prefiggiamo di poter comunicare sempre di più con gli studenti, di poterli assistere nell'orientamento. Infatti il nostro Dipartimento è particolarmente eclettico e richiede ben due scelte. Dopo il primo anno la scelta del corso di studi e nel momento di iscrizione alla magistrale. Inoltre abbiamo in mente numerosi progetti come ad esempio il progetto dell'illuminazione e di portare altri ospiti che potranno dare lustro al nostro Dipartimento.